Salve a tutti gente, lo scontro a cui noi stiamo assistendo in questa fase non è come ci viene raccontato dai giornali una guerra in cui la Russia e l'Ucraina si scontrano e nella quale i paesi occidentali hanno deciso di sostenere il paese presuntamente aggredito. Si tratta in realtà di una vera e propria terza guerra mondiale che ha la sua ragione profonda nel tentativo degli Stati Uniti e dei loro alleati barra vassalli di mantenere il mondo all'interno di quel sistema unipolare a guida americana dove a decidere tutto e a fissare le regole sono gli stessi Stati Uniti. Dobbiamo quindi cercare di capire come potrà evolvere questo scontro che è un vero e proprio spartiacque nella storia. La mia opinione è che l'Occidente sia destinato a perdere questa terza guerra mondiale. Vedremo quindi quali sono le cinque ragioni per le quali l'Occidente sarà sconfitto. La prima ragione, la più ovvia, è quella militare. I paesi occidentali dispongono di una tecnologia avanzatissima e hanno anche una capacità di proiezione nelle varie parti del mondo senza pari. La NATO, l'alleanza militare che rappresenta l'Occidente, ha basi praticamente in ogni angolo del mondo e non c'è nessun altro paese che possa vantare una simile capillare presenza nei punti nevralgici del pianeta. Nonostante questo, sia la guerra attuale in Ucraina sia le precedenti guerre nel vicino Oriente hanno dimostrato che per prevalere in maniera definitiva, per poter quindi sconfiggere l'avversario, il nemico, è necessaria la presenza sul terreno. Non bastano i bombardamenti, i missili e i droni, l'alta tecnologia. Si devono mettere gli stivali sul terreno, come si dice in gergo militare. Ogni volta che gli occidentali hanno messo gli stivali sul terreno le cose sono andate molto male. Lo abbiamo visto in Iraq, lo abbiamo visto in Siria, lo abbiamo visto in Afghanistan. Tolta la superiorità tecnologico-militare nei combattimenti, gli occidentali se la vedono molto spesso molto brutta. E questo in scontri con paesi piccoli e poco armati. Immaginiamo come potrebbe apparire uno scontro in stile iracheno, una guerra in stile irachena, con però come controparte dell'Occidente non il piccolo e povero Iraq, ma la sterminata e gelida Russia e l'enorme e popolatissima Cina. Oltre all'impossibilità assoluta di conquistare fisicamente quei territori, al di là del fatto che Cina e Russia hanno a disposizione, a differenza dell'Iraq, della Siria e dell'Afghanistan che erano paesi molto arretrati, Cina e Russia hanno a disposizione tecnologie che possono stare al pari con quelle occidentali, ma hanno anche una popolazione di oltre, combinata insieme, oltre 1 miliardo e 700 mila persone e un territorio che è sostanzialmente infinito, quindi mettere i piedi sul terreno in quelle aree è virtualmente impossibile per gli occidentali. Oltre a questo bisogna considerare che la guerra in Iraq ce l'ha insegnato quando i soldati occidentali, quindi i giovani, i ragazzi dell'Occidente, tornano in patria, nelle body bag, quindi nei sacchi dove vengono messi i soldati morti, questo provoca un effetto politico incontrollabile. Le poche migliaia di morti nella guerra irachena sono state sostanzialmente insostenibili dal punto di vista politico, al punto che venivano censurate, era vietato mostrare le immagini dei soldati che venivano riportati in patria per essere seppelliti. Immaginare che i governi occidentali siano in grado di imporre ai propri popoli il sacrificio di svariate decine o centinaia di migliaia dei loro giovani è un'ipotesi assolutamente impossibile e questo al netto del fatto che in caso di sconfitta imminente Cina e Russia potrebbero provocare un vero e proprio olocausto nucleare. Quindi la prima ragione per cui l'Occidente non può prevalere in questa guerra è appunto la ragione militare. La seconda ragione per cui gli occidentali non possono vincere è la ragione economica. I paesi dell'Occidente sono arrivati alla rivoluzione industriale molto prima di tutti gli altri e questo gli ha consentito un vantaggio incredibile. Il colonialismo poi gli ha permesso di mettere le mani su tutte le principali risorse di materie prima del mondo compreso in primo luogo il petrolio e il gas e quindi gli ha consentito di alimentare con le risorse di paesi terzi la propria gigantesca macchina industriale. Ma con la globalizzazione e la brama di arricchimento smisurato delle oligarchie finanziarie dell'Occidente ha fatto sì che i nostri paesi delocalizzassero principalmente in Cina ma anche in altri paesi dell'Asia e del Sud America buona parte della loro produzione industriale mantenendo principalmente i servizi. In sostanza dagli anni 90 in poi o meglio dagli anni 80 in poi l'Occidente è andato incontro a un processo di finanziarizzazione dell'economia. Si è quindi smesso di produrre i beni reali per produrre i beni virtuali, in particolare l'industria finanziaria, i servizi finanziari. Peccato che i servizi finanziari siano sostanzialmente una virtualità assoluta, non si mangino e all'interno di un contesto di guerra c'è una bella differenza tra avere le fabbriche che producono i beni reali e avere invece le banche che producono i mutui e i prodotti finanziari come i subprime o altre cose del genere. Nel frattempo però la Cina, ma non solamente la Cina, hanno iniziato a sviluppare loro un enorme apparato industriale che può contare oltretutto sulla disponibilità della grande maggioranza delle materie prime mondiali, sia perché la Russia dispone di risorse infinite da tutti i punti di vista, petrolio, gas, terre rare, acqua, legname, terre coltivabili e le sanzioni per la guerra in Ucraina hanno tolto all'Occidente anche quell'ulteriore elemento di vantaggio energetico. Gli altri paesi poi che dispongono di materie prime essenziali sono entrati tutti quanti sostanzialmente in rotta con l'Occidente per via delle varie guerre che l'America e gli alleati hanno fatto nel vicino Oriente. Quindi il blocco asiatico, Russia e Cina, oltre alle proprie risorse naturali per alimentare la propria gigantesca macchina industriale, può contare anche su paesi come il Venezuela, l'Iran, l'Iraq e oggi anche l'Arabia Saudita. Quindi i paesi che detengono la grande maggioranza delle riserve di idrocarburi del pianeta. Per avere un'idea di quanto gigantesca sia stata la trasformazione economica e il regresso economico dell'Occidente, basti pensare che alla metà dello scorso secolo, quindi intorno al 1950, i paesi occidentali, quindi Stati Uniti, Canada, i paesi europei e Australia e Nuova Zelanda producevano circa il 70% della ricchezza mondiale. Tutto il resto del mondo produceva appena il 30%. Oggi le proporzioni si sono invertite e secondo gli stessi economisti occidentali, nel 2030, quindi praticamente a brevissimo, l'Occidente produrrà appena il 30% della ricchezza globale, mentre i paesi non occidentali e in particolare i paesi asiatici produrranno il 70%. Quindi si è letteralmente invertito il rapporto in appena 80 anni. Quindi la seconda ragione per la quale l'Occidente non può prevalere in questo scontro è appunto la ragione economica. La terza ragione che rende virtualmente impossibile nel medio periodo una vittoria dell'Occidente è la ragione demografica. Nel 1950 la popolazione mondiale ammontava a circa 2 miliardi e mezzo di persone. I paesi occidentali potevano contare su una popolazione di circa 800 milioni di persone, quindi in pratica un essere umano su tre era un occidentale. Oggi la popolazione mondiale è circa di 8 miliardi di persone, ma la popolazione dei paesi occidentali non raggiunge neppure il miliardo messi tutti quanti insieme, quindi si è passati da 1 su 3 a 1 su 8. Non basta, perché oltre ad essere una quota molto minore della popolazione mondiale, quella occidentale è una popolazione molto vecchia. Questo vuol dire, e ovviamente questo ha un impatto sia dal punto di vista economico che dal punto di vista militare, questo vuol dire che la popolazione attiva, la parte giovane quindi attiva di questo meno di un miliardo di persone è molto molto più bassa rispetto a quella degli altri paesi del mondo e ha come se non bastasse un tasso di natalità che è sensibilmente inferiore. In Italia non ne parliamo, i paesi europei hanno ormai da decenni tassi di natalità negativi sotto la soglia di mantenimento della popolazione. In Italia le nascite sono di 1,2 figli per coppia, il che vuol dire che di generazione in generazione è la popolazione sostanzialmente di mezza, ma oltretutto invecchia. Quindi il rapporto tra popolazione attiva che produce ricchezza e che è capace di combattere e popolazione passiva che invece consuma ricchezza, gli anziani e non sono in grado di prendere parte a una guerra è a tutto svantaggio dell'Occidente. Oltre a questo c'è da sottolineare anche un altro elemento e cioè che una fetta considerevole della popolazione occidentale proviene da altre zone del mondo, dai paesi cosiddetti in via di sviluppo. In base all'ideologia neoliberista questo non doveva rappresentare assolutamente un problema, ma anzi doveva essere una risorsa perché con l'immigrazione di massa si facevano venire persone disposte a lavorare con bassi salari e quindi in condizioni molto più svantaggiose degli autotoni e quindi questo ci garantiva una maggiore competitività. In realtà gli scontri etnici a cui abbiamo assistito in Occidente negli ultimi anni smentiscono l'idea che questo poteva non avere nessun tipo di costo dal punto di vista sociale e della stabilità di questi paesi. Abbiamo visto come islamici di seconda o terza generazione, quindi figli o nipoti di persone immigrate qui molto tempo prima, si sono radicalizzati e hanno compiuto attentati contro quello che in base all'ideologia neoliberista era il loro stesso popolo perché lo consideravano un nemico. Abbiamo visto Erdogan, il presidente turco, fare appello alla minoranza turca in Germania come elemento di pressione politica e ultimamente ai mondiali abbiamo visto Bruxelles messa a ferro e fuoco da parte di cittadini europei, di cittadini che vivevano in quella che è oltretutto la capitale d'Europa ma che provenivano da paesi del Maghreb e che dopo la vittoria del Marocco in una delle partite, il passaggio del Marocco alla semifinale hanno espresso tutto il loro orgoglio per la loro identità di origine, tutta la loro rabbia nei confronti del paese che li ospita all'interno del quale vivono. Che in uno scontro globale questi cittadini siano pronti a morire non per i loro paesi di origine, non per i loro popoli di origine ma per i paesi europei e per l'Occidente è un'ipotesi che io considero estremamente improbabile. Arriviamo quindi alla quarta ragione di debolezza dell'Occidente in questa nuova fase storica di scontro globale che è quella politica. I paesi occidentali sono in buona sostanza paesi suppostamente democratici. Questo in altre fasi storiche ha rappresentato un vantaggio, poteva rappresentare un vantaggio perché le istituzioni e i governi che mandavano i cittadini in guerra erano rappresentative della loro volontà. Adesso però le cose sono profondamente cambiate. Nonostante i paesi occidentali abbiano mantenuto la parvenza di paesi democratici, il guscio di paesi democratici, nella realtà tutti quanti sappiamo che la democrazia è stata soppiantata da sistemi tecnocratici che nulla hanno a che fare con la volontà dei cittadini. Negli Stati Uniti il numero di cittadini che si reca alle urne ormai è largamente minoritario. I presidenti e i congressi vengono eletti con una parte minoritaria del corpo elettorale. L'Europa che tradizionalmente vedeva l'80 al 90% dei suoi abitanti partecipare al processo democratico oggi si incammina a raggiungere gli Stati Uniti su quei tassi spaventosi di astensione. Come se non bastasse poi la classe politica e le istituzioni suppostamente democratiche sono mal viste dalla stragrandissima maggioranza dei cittadini. I sondaggi dicono che ad esempio gli italiani che hanno fiducia nel Parlamento e nelle istituzioni della Repubblica sono una minoranza che si aggira tra il 20 e il 30%. I politici in tutti i sondaggi risultano essere la categoria più detestata da parte dei cittadini e in un contesto del genere per questi governi così poco rappresentativi, così poco stimati e che hanno la fiducia di un numero così esiguo dei propri cittadini chiedere uno sforzo bellico diventa sempre più improbabile. Viceversa quelle che la nostra stampa chiama autocrazie hanno il supporto di una parte maggioritaria dei loro cittadini. Certo c'è una fetta della popolazione che invece non condivide o addirittura considera illegittimi questi leader, ma che si chiamino Putin, che si chiamino Xi Jinping o che si chiamino Orban, questi leader possono contare sul supporto di una fetta molto maggioritaria della propria popolazione e su un supporto sostanzialmente incondizionato. Invece che ci siano migliaia o centinaia di migliaia di persone in occidente disposte a morire perché glielo chiede Biden, glielo chiede Macron o glielo chiede il duo Draghi Meloni, è tutto da dimostrare. Infine arriviamo alla quinta ragione che forse in un certo senso le racchiude tutte quante, è alla base della debolezza economica, della debolezza politica, della debolezza demografica dell'Occidente ed è la ragione culturale. In Occidente l'identità che è così forte nelle altre parti del mondo è stata combattuta con ogni mezzo negli ultimi decenni, ogni tipo di identità. L'appartenenza nazionale, l'appartenenza a un determinato popolo che rappresenta un motivo di orgoglio assoluto per il popolo russo, per il popolo cinese, ma anche per i popoli africani, eccetera, da noi è stata considerata una malattia da curare con il nome di razzismo e addirittura buona parte dei cittadini occidentali si vergogna o viene indotta a vergognarsi della propria identità. Appartenere a uno di qualsiasi degli stati occidentali per la cultura che è stata imposta significa semplicemente rivedersi in uno stile di vita, di consumo, di lavoro, non in una comunità significante. Anche la famiglia è stata sostanzialmente distrutta dalla propaganda martellante degli ultimi decenni e questo è alla base del crollo demografico, non certo le ragioni economiche, molto spesso ci sentiamo dire non si fanno figli perché non sappiamo come mantenerli, è ridicolo, siamo ancora i paesi più ricchi del pianeta e non abbiamo figli, mentre l'Africa ha tassi di crescita esponenziali. Ma la stessa identità biologica, la stessa identità psichiatrica, si potrebbe dire psicologica, dei popoli occidentali è ormai minata alla radice. Pensiamo a tutta una serie di elementi che sono diventati fondamentali della nostra cultura e che sono guardati da tutto il resto del mondo come un problema che andrebbe trattato nei manicomi. Pensiamo all'identità di genere. In Occidente è stato imposto come un elemento centrale della nostra visione del mondo che non soltanto l'individuo non debba identificarsi nel proprio popolo, non debba avere un legame strutturale con la propria famiglia, ma anche la stessa identità biologica è considerata qualcosa che può essere decisa di volta in volta in base ai propri desideri. Recentemente una multinazionale che produce assorbenti ha dato nuove linee guida per eliminare da ogni forma di comunicazione pubblicitaria o istituzionale il termine donna, presupponendo che, come hanno spiegato i loro rappresentanti della stampa, della comunicazione, le persone che utilizzano i loro prodotti non sono donne, cioè quelli che comprano gli assorbenti per il ciclo mestruale non sono donne, sono persone che hanno il ciclo mestruale, perché in base alla nostra folle ideologia ci possono essere donne che non hanno il ciclo, non perché sono in menopausa, ma perché in realtà sono uomini, e viceversa uomini che hanno il ciclo, non perché si siano accidentalmente feriti, ma perché biologicamente sono donne. Quindi in sostanza si è spaccato completamente il concetto biologico in base, in nome di una autopercezione che è stata imposta ormai addirittura a livello istituzionale. In alcuni paesi, in alcune aree più avanzate per così dire dell'Occidente, chi dice che solamente le donne hanno il ciclo mestruale rischia addirittura di andare in galera per hate speech e questa è esclusivamente una parte di questa realtà delirante, perché in alcuni ambiti, in alcune sottoculture, le persone non solo possono identificarsi con un sesso o un altro in base a come si sentono, ma addirittura a una specie o a un'altra. Ci sono, specialmente nel sottobosco di alcuni gruppi di feticisti di vario tipo, persone che si identificano in vari animali e quindi si mettono dei costumi da cagnolino piuttosto che da cavallo e si comportano come tali. Mantenendo il principio logico che oggi domina l'Occidente, ossia che l'identità non è quella oggettiva ma quella percepita, si hanno una serie di elementi di vero e proprio delirio, come ad esempio quelli che sono biologicamente uomini ma che possono partecipare alle competizioni femminili, ad esempio di pugilato, perché si autopercepiscono come donne. Oppure sempre in questo ambito ci sono stati casi di galeotti, di uomini condannati al carcere che prima dell'esecuzione della sentenza comunicavano che si autodefinivano, si autopercepivano come donne e quindi venivano messi nei carceri femminili dove in alcuni casi ci sono stati un boom di natalità che in parte magari va a compensare quella che non avveniva fuori perché di fatto poi si percepivano, come dicevano loro, come donne sì ma lesbiche. Ovviamente questo discorso non ha nulla a che fare con non giustificare la violenza o la discriminazione nei confronti di qualunque minoranza o di non comprendere o non cercare di supportare tutti coloro che hanno una percezione distorta di qualunque tipo, che quindi fanno fatica ad identificarsi con la propria condizione a qualunque livello. Ma il corollario di questo delirio occidentale è semplicemente folle. Vi ho mostrato alcuni esempi reali e concreti, cioè uomini che partecipano alle gare femminili o che se vengono arrestati vanno nei carceri femminili, ma coerentemente con questa impostazione se ad esempio un politico uomo volesse approfittare delle quote rosa non dovrebbe fare altro che dire che lui, che lei partecipa alle lezioni sentendosi donna e il fatto che magari abbia la barba e non abbia neppure fatto nessun tipo di operazione chirurgica non ha nessuna importanza perché se è l'autopercezione a indicare la propria identità l'autopercezione non dipende da come ti vedono gli altri, quindi puoi anche avere la barba, i muscoli, il tatuaggi, ma sentirti donna e quindi partecipare, quindi usufruire delle quote rosa per esempio a livello politico. Ma non solo, se il proprio genere dipende semplicemente da come tu ti svegli la mattina, la stessa cosa non può che valere per la propria età. Ad esempio, perché io non posso avere la pensione di anzianità, direte voi, perché non hai l'età? Chi ve lo ha detto? Io mi sento un ottantenne, oggi mi percepisco come un ottantenne, quindi in linea di logica dovrei poter andare all'Inps e dire io non posso lavorare perché ho ottant'anni o perlomeno io penso di averli, quindi datemi la pensione. O ancora, ci sono tutta una serie di programmi di supporto per varie minoranze come possono essere i Rom, come possono essere le persone che provengono da zone particolarmente disagiate. E se qualcuno che è nato a Milano piuttosto che a Torino si percepisce come Rom o come providente dallo Zimbabue, chi sei tu per dirgli che non è così? E ancora, se io percepisco la mia età come quella di un bambino di 7 anni, sono autorizzato, o meglio, sono non perseguibile per ogni tipo di reato che faccio in quanto minorenne, tutto questo è apparentemente grottesco, ma in realtà è quello che sta succedendo oggi in Occidente, cioè la mentalità, l'ideologia che si è ormai imposta, la cosiddetta ideologia woke che si è imposta in Occidente, inevitabilmente sta portando e porterà a questi deliri, quindi a una situazione in cui la realtà è completamente indifferente, è completamente irrilevante e in cui l'identità, la storia, l'appartenenza è qualcosa che è visto come un problema da curare e non una risorsa a cui attingere e questa dal mio punto di vista è la ragione fondamentale e definitiva per la quale l'Occidente in questo scontro è destinato a soccombere se non cambierà velocemente il suo modo di approcciarsi a se stesso e al mondo, quindi serve una vera e propria rivoluzione culturale. Ovviamente noi cerchiamo nel nostro piccolissimo di fare la nostra parte, contiamo molto molto poco, però ce la mettiamo tutta, se ci volete supportare in descrizione trovate tutti i link per darci una mano. Grazie a tutti. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, va in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.